Dopo la pausa per la nazionale azzurra di calcio torna il campionato di Serie A con una tredicesima giornata che propone tre anticipi tutti di grande spessure. Si parte dalla sfida delle 15 al 20 godi tra il Chievo ed il Cagliari. Entrambe arrivano da due sconfitte sia pure con differenti situazioni. Gli scaligeri ad opera della Juventus per 2 a 1 mentre i sardi con un tennistico 5 a 1 ad opera del Torino in trasferta. Attesa poi per la sfida del Friuli tra Udinese e Milan. Gli azzurri di Sarri cercano di ritornare nelle zone alte della classifica e vogliono sfruttare appieno la trasferta visto che il pareggio beffardo ottenuto al San Paolo ad opera della Lazio per 1 a 1 non è certamente stato ben digerito. I friulani arrivano con lo stesso identico punteggio nella trasferta di Marassi contro il Genoa. Infine la chiusura sarà con la sfida delle 20.45 allo Stadium di Torino tra Juventus e Pescara. La capolista del torneo cerca ancora di allungare sulle dirette in seguitrici mentre il Pescara dopo il 4 a 0 subito ad opera dell'Empoli cerca il giusto riscatto.